Se questo video raggiunge i 20.000 like, zoi toglierà la maschera Ciao friends, benvenuti in questo nuovissimo video Oggi sono qua finalmente ritornati con le 4 facecam Perché nello scorso video con le 4 facecam abbiamo raggiunto la modica cifra di 20.000 like E di conseguenza eccoci qua Ma questa volta, salutate ragazzi, intanto voi, dai salutate un po' Ciao, salve Ah, questa volta abbiamo un update, ovvero Dato che effettivamente nello scorso video avete lasciato 20.000 like Abbiamo tolto gli occhiali di Zoe Appunto potete notare i suoi splendidi, gli occhi Esatto, fai, mostra i tuoi occhi, mostra i tuoi occhi Li fai vedere bene in webcam Ecco, perfetto Ok, comunque, allora oggi raga siamo su Minecraft Ma, è una cosa molto assurda questa Ma praticamente qua ci sono, c'è il mio Instagram Sono loggato nel mio Instagram E ci sono tutti gli altri pure No, 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 no No, facciamo vedere Instagram di Zoe No, no, no Guarda qua c'è una storia di Ryan Che potreste vedere la faccia di Ryan Ma non me la faccio vedere Mamma mia ragazzi Vaga la faccia di Ryan è tipo, non lo so Altissima, già impossibile Ok, comunque, allora, oggi andremo a vedere e a recensire le vostre, i vostri post che ci fate Degli Eferrezetta Tra l'altro, arriviamo ai 20.000 like anche in questo video Per togliere la maschera a Zoe Finalmente una volta per tutte Per vedere la sua faccia Una volta, dai, 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 ci riusciamo Quindi 20.000 like ora Metti il tuo cellulare in maniera verticale e lasciate like Detto questo Andiamo Ok, cerchiamo Mettiamoci a cercare Ah, tra l'altro, devo salutare A Shadow Dragon All'Ele, Eferrezetta E a Genferrezetta Perché non dimenticate Allora Cerchiamo Andiamo nel mio profilo Ok Eh, sì, abbiamo un computer all'interno di Minecraft Lasciate perdere come abbiamo fatto Ma È fatta a scienza È fatta a scienza Ma Ecco, funziona Ok Fatto Ok, perfetto Ti sei trovato? Sì, mi sono trovato Wow Ok, ah, eccomi qua Guarda che carino che sono Ma che bello, che buono Ma che è questo? Ma che è? Ma vale, va bene Ma vale Stai a ridi È stato bello No Allora Eeeh Guarda qua Adesso ti faccio vedere I post taggati Dove effettivamente voi mi taggate Magari ci sono delle fanpage O anche tipo delle persone singole Che fanno dei post su di noi E quindi ci taggano A me o agli altri Eeeh E qua Abbiamo già Una fanart Che è la user Aia Aia Zoe Aia Iniziamo Aia Un punto a Yumi Un punto a Yumi Eeeh Dove sei? Ma no Tranquilla Tranquilla Tanto è solamente una ship Che offesa Guarda L'unico like Che ha messo a questo post È stata Yumi E' Yumi quella raga Dai Io la metto Io la metto pure io like Perfetto Bravo Andiamo avanti Bravo bravo grazie Che questo su user news è presente Che non è un mio canale Però Lo ringrazio perché ogni volta pubblica Tutte le miniature Tutti i titoli che faccio Così si fa un bello spam Per chi magari ha le notifiche Su Instagram Quindi grazie Continua A fare i freebooter Perché tanto ci sta Effettivamente Ok Andiamo avanti Ok questo è il mio disegno Ok Oddio Lennico ha scritto Oddio Sbiagugavagu Agugic Vai Agu I Vagiatoro Oddio Oddio Sbrizer Adoro Esatto Mettiamo like Mettiamo like Ci sta L'ha fatto Serena Brava Serena Mettimi like Pum Un pugno Ok Vediamo qua Nessuno Spitzer Quando nella Craft University Qualcuno va a casino E rompe qualcosa nella villa E io pago D'altronde Anche 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 Nella manile ferrezzata Praticamente era così Nella villa E ferrezzata Sì Vabbè altra miniatura Ehm Ok questo Purtroppo i video Non si possono vedere Ma andiamo avanti Va bene Andiamo avanti Andiamo avanti Sono tutte le mie miniatura Andiamo avanti Tutti i video che possiamo vedere Purtroppo Ok vai Sei carino Eh vabbè Ci sta Sei carino Sei carino Sì sì Scusateci Ma purtroppo Ho dovuto fare un taglio Dato che un menomato Ha rotto un blocco Ecco Ecco Che cosa è ridi Parca miseria Un attimo Prendi la serisata E prendi un palloncino Che si sconti Esatto Sì È uguale È uguale È uguale È uguale Comunque Allora Andiamo avanti Andiamo avanti Allora Ecco Dove erano rimasti Mannaggia A te Veramente Fammi scendere Ok Sembrava tipo Non lo so Dei topolini Che stanno usando Allora A me questa cosa Fa strarridere Perché c'è un tizio Che è una fanpage Di Paul Walker E così a caso Mi ha messo insieme a lui A caso Cioè non ha senso Questa cosa Però vabbè dai Facciamo che ci sta C'è una faccia Veramente magnifica Che è sempre uscito Da un cartello animato Non riesco a mettermi Nella faccia del tipo Andiamo avanti Andiamo avanti Allora Qua c'è una bella neve Per Ryan No vero Cryon Perché Mi andiamo avanti Capito l'otto Vabbè Ah questa ragazza Fa È fresata di zoo Bla 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 Fa praticamente Delle storie Nella sua descrizione Carina Sì proprio delle storie No ma no Ma chi è che c'è Voglio di leggere adesso Al massimo Andatele a leggere Andatele a seguire Allora Nessuno spiega La storia dei mostri Chiamo la polizia E vi denunzio Cosa che effettivamente Vorrebbe essere fatto Ok guarda Questo qua è troppo bello Veramente bello Questo Bravissimo Ovviamente là Che bellissimo C'è però Una versione in particolare Che voglio andare a vedere Che purtroppo Ti scorda di taggarmi Quindi Faraon ti prego Taggami la prossima volta Perché in tutti i post Che hai fatto su di me Non mi hai taggato Quindi se non ti metto È proprio perché non mi tagghi Mi taggami Aspetta un attimo Devo cercare uno Che si chiama Faraon Eh lo cerco qua Faraon Faraon Andiamo un po' Faraone Faraone me lo va a cercare Instagram Let's go Aspetta Let's go Eccolo qua Eccolo qua Faraon Faraon Allora Faraon Fammi un favore Tutte le volte Che mi fai dei posti su di noi Sugli Faraon In generale Non togliere solamente Chi effettivamente ha rivolto Il coso Ma tagga Specialmente a me Così che a me non posso Metterti nei video Perché fa delle cose assurde Ragazzi Sentite qua Ragazzi io sguardo E vedi un UFO Panic E quello di Ryan Calm Occupa tutto il cielo Perché nella manila Frazzetta C'è Sto UFO In mezzo alle scatole Sul cielo Che di Ryan Dice che è una casa In realtà è un UFO Gigante Andiamo avanti È vero Sui mole nella manila Frazzetta Svriser Ryan Costruisci casa normale Or trovo 25 Ryan purtroppo Gli piaceva Fri gli UFO Quando io mi è entrato A fare parte Frazzetta Quindi di Svriser User O Svro Pillola blu Pillola rossa Esatto UFO di Ryan C'era della venila E ferrezia È vero Questa è bellissima Andiamo avanti Ryan quando Ammetterà Che casa sua È un UFO Noio Oh mio Dio Non ci posso credere Non succederà mai Questa cosa Mai Già diventa Psicomatica Svriga e cambia un universo Adios Tipo No questo è il meme Tipo il nuovo meme Messico No non vado più Sì esatto Cambio un universo Direttamente Esatto Il tuo modello di casa Ryan Niente Ryan costrisce la casa Nuova casa È un UFO È tutto riguardante Al UFO Di Ryan Comunque Tutti i posti Di Farron No mi dissocio Andiamo avanti Andiamo avanti Andiamo avanti Andiamo avanti Dove 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 No 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 Stiamo andando avanti Stiamo andando indietro Indietro Sì Fai un video Stiamo In una famiglia di Minecraft Ok My fight Svrizer Bad Wars Damn Svrizer con armature in diamante Che cavolo vuol dire Vabbè Carino Help Crafty V 2021 Arrivo Visualizzazioni Bellissimo Questo è stupendo Andiamo Andiamo Nessuno Ma proprio nessuno Lo stormo Quando Svrizer e Zoe Si fidanzano E niente È una roba Permettere No Quando nelle bedwars Targetti Svrizer e vince I'm won But what a cost Per quale costo ho vinto A targettare Svrizer Nelle bedwars Giusto Svrizer Youtube Pitch Vabbè dai Ci sta Martedì meme Martedì meme Mercoledì Ah questa è la programmazione Di Farron Il vicino Svrizer Cosa ci stava un po' di anni fa Eh Tipo un annetto fa due Visere in le psittiche E fa trovare i diamanti Zove Is for me Favamo quella voce Perfetta Dipo È solo per me È per me Mi riserva nel server Sub Io Ah vabbè dai Perché Farron è anche un grande abbonato Nel mio server dei sub Mi fa una live Una battuta in live Tizio che scrive Ah 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 Tre minuti dopo Ah Il suo campo Di fiori cristallo Su live city Fa un piano perfetto Per vederli a fare Un sacco di soldi Un server si abbonna Esplode la TNT Si distrugge tutto Questo lo sapreste Se Vedete le mie live Che in un momento Non faccio Perché Mi serve la connessione decente È nulla ragazzi Io spero che il video Vi sia piaciuto Veramente Mi siamo davvero Un sacco divertiti È nulla Eh Lasciate like Almeno 20.000 like Per vedere tutte L'intera partita di zone Dizerci voi Se volete dei video Dove vediamo i vostri meme Specialmente Questo è un Minecraft Ma specialmente Fatene altri Taggatemi Svisate il trattino passo È il mio Instagram Seguitemi È nulla Ci si becca Ciao a tutti Ci si becca Ciao belli Ciao a tutti 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 Grazie a tutti.